e facciamo gol così quindi oh leao non ha segnato puoi stare tranquillo eh però c'è un buon voto magari eh ma gli da l'assist assist involontario ma guarda per il culo che sono gli dai il gol a leao è probabile e si auto con l'involontario eh bella partita non male